Sezione di staccate dei tribunali, c'è l'ok della Regione al referendum abrogativo sulla normativa che prevede la soppressione. L'ho spiegato il Presidente del Consiglio regionale, Onofrio in trona, commentando l'approvazione a maggioranza con 49 voti a favore, un astenuto e un voto contrario. Non è una provocazione, è un'iniziativa che lancia un SOS al Governo nazionale perché raccolga il maelessere, i disagi, le preoccupazioni degli operatori, della giustizia e dei cittadini dopo la soppressione delle sezioni di staccate dei tribunali. Tale proposta segue analoghe iniziative intraprese da altre regioni come Abruzzo, Calabria e Campania. Sulla questione del referendum è intervenuto anche il Consigliere regionale socialista Franco Pastore. La Puglia, come le altre regioni che hanno approvato la bozza, è al sud una terra a rischio e il momento storico che stiamo vivendo non aiuta, ha commentato il Consigliere regionale Barlettano. Con queste altre regioni a luglio scorso abbiamo costituito una sorta di macro regione della legalità con l'intento di promuovere un referendum abrogativo delle norme che modificano la geografia giudiziaria del Paese. Vogliamo davvero difendere i nostri territori? Allora dobbiamo far capire e sentire fino a Roma che i pugliesi vogliono che per ora le cose non cambino e non per un capriccio, non per un anarchia o spirito di rivolta popolare, ma perché in democrazia la volontà del popolo è sacra e bisogna rispettarla e ci sono occasioni in cui una popolazione deve esprimersi direttamente attraverso gli strumenti che la legge e la Costituzione italiana offre agli italiani. Il pronunciamento dell'Assemblea regionale non vuole alzare un muro contro la politica di contenimento dei costi pubblici in materia, ma sollecita, spiegato dall'altra parte il Presidente del Consiglio regionale, un offre in trona, una moratoria per una riflessione dell'incidenza dei tagli nel corpo della giustizia italiana. Con il pronunciamento dell'Assemblea legislativa pugliese si chiede al Governo di valutare sede per sede, arrivando a definire una decisione governativa consapevole e coerente con gli obiettivi di risparmio che si prefigge. Quello del Consiglio pugliese non è un no cociuto alla riforma, siamo pronti, ha chiarito in trona, a dire sì, purché la ridistribuzione delle sedi sul territorio risulti meritata.